Chiusura anticipata delle pre-vendite per Montelago Celtic Festival, in programma il 3, 4 e 5 agosto a Taverne di Serravalle di Chienti, in provincia di Macerata. Ad annunciarlo è la direzione artistica che ringrazia tutti coloro che si sono garantiti l'ingresso e rassicura, come in ogni edizione, per accontentare chi solo all'ultimo potrà organizzarsi per venire, resteranno aperte le biglietterie per acquistare sul posto i 2000 ticket d'ingresso restanti. A partire dalle ore 7 di giovedì 3 agosto caccia quindi agli ultimi biglietti. Per monitorare l'affluenza al festival nel sito di Montelago sarà presente un conteggio live degli ingressi rimanenti. A sancire l'obiettivo raggiunto arriva anche il trailer di Montelago, prodotto dalla Catasta. Un richiamo a The Fire Circle, uno dei momenti più speciali di Montelago Celtic Festival, ossia l'accensione dei fuochi sacri che si svolge il venerdì alle 22.45, suggestiva performance collettiva che illumina l'altopiano e dà il via scoppiettante alla danza del main stage e alla grande festa. La sua vita è stata una nuova, una nuova, una nuova, una nuova, una nuova, una nuova. Grazie a tutti Grazie a tutti